I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato tre persone indagate per concorso in violenza sessuale a danno anche di due minori. All'arresto delle tre persone i carabinieri sono giunti dopo che i militari della stazione di San Giovanni in Fiore avevano avviato una specifica attività di indagine che ha permesso loro di scoprire un 46enne che abusava sessualmente di due ragazze minori, una delle quali disabile, all'interno della loro abitazione. Gli approfondimenti dell'indagine non solo hanno riscontrato l'ipotesi investigativo originario ma hanno permesso di accertare altri abusi sessuali commessi dallo stesso indagato a danno di un'altra sorella disabile di poco maggiorenne. Inoltre è stata accertata la responsabilità dei genitori delle due sorelle, un 46enne ed una 48enne, per aver agevolato la commissione degli abusi sessuali nella loro abitazione e l'utilizzo esclusivo di una camera da letto. Nel corso delle indagini è anche emerso che l'indagato fosse solito lasciare pochi euro all'interno dell'abitazione dopo aver compiuto gli abusi sessuali nei confronti del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, nei confronti della madre invece delle ragazze, persone offese alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre nei confronti del padre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i genitori il GIP del Tribunale di Cosenza ha anche disposto la sospensione della potesta genitoriale nei confronti delle due figlie minori.